ci risiamo un'altra riforma delle pensioni sembra sempre lo stesso schema di solito si dice morto un papa se ne fa un altro in questo caso potremmo dire quando casca un governo ecco subito che ne nasce un altro nel senso più politico e meno elettorale del termine vale a dire quando nasce il nuovo esecutivo si tende a smontare tutto quello che è stato fatto da quello precedente e così all'inizio di gennaio 2022 potrebbe esserci una nuova riforma delle pensioni ma andiamo insieme a vedere che cosa potrebbe cambiare perché naturalmente tutto è ancora allo studio e allora vediamo subito con la grafica numero uno una cosa che sembra praticamente certa addio a quota 100 con la riforma delle pensioni non si potrà più andare in pensione con quota 100 ossia a 62 anni di età e dopo almeno 38 anni di contributi questa misura che come ricorderete era stata introdotta nel 2019 si esaurirà la sua scadenza naturale fissata alla fine del 2021 e non sarà rinnovata sostanzialmente l'impegno è quello di mettere un meccanismo che eviti uno scalone tanto temuto per l'uscita che sarebbe di ben 5 anni perché per andare in pensione bisogna raggiungere come ben sapete 67 anni di età contrariamente a quota 100 dove gli anni sono solo 62 andiamo avanti con la grafica numero 2 perché dobbiamo parlare dell'ipotesi più probabile che andrebbe a sostituire quota 100 e che è quota 102 di cosa si tratta è la possibilità di andare in pensione a 64 anni di età e con 38 di contributi questa è una novità la pensione anticipata con quota 102 potrà avvenire solo accettando una sforbiciata tra il 2,8 per cento e il 3 per cento del montante contributivo per ciascun anno che è necessario al raggiungimento dei requisiti di età previsti per la pensione di vecchiaia quindi quello che differenzia quota 102 da quota 100 è questa sforbiciata oltre naturalmente all'età anagrafica che abbiamo già visto andiamo a vedere invece che cosa sarebbe confermato grafica numero 3 opzione donna in questo caso parliamo della proroga per tutto il 2021 di opzione donna che è il meccanismo che permette a tutte le donne lavoratrici sia autonome che dipendenti di andare in pensione prima a 58 e 59 anni e dell'ape social a questo proposito andiamo subito con la grafica numero 4 perché la possibilità di andare in pensione a 63 anni a costo zero con l'ape social potrebbe essere estesa e vediamo subito a chi ai lavoratori fragili a rischio covid quindi a tutti coloro che sono soggetti ad avere diverse patologie e a disoccupati di lunga durata o a chi non ha diritto all'annaspi cioè l'indenità di disoccupazione quindi l'ape social potrebbe avere un aumento di platea quindi potrebbe essere indirizzata a più lavoratori o a disoccupati in questo caso andiamo avanti con la prossima grafica che ci porta direttamente a quota 41 perché rispetto alla pensione anticipata dei lavoratori precoci che abbiamo già accennato la nuova pensione potrebbe essere estesa a tutti i lavoratori oggi il trattamento a chi è rivolto può essere fruito da chi possiede almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del 19esimo anno di età quindi i famosi lavoratori precoci e chi appartiene a delle categorie tutelate che cosa si intende per categorie tutelate per esempio i caregiver coloro che danno assistenza ai familiari quindi alle persone che stanno in famiglia che magari hanno bisogno proprio di assistenza come detto oppure agli invalidi civili queste sono solo alcune ipotesi naturalmente ci devono essere ci saranno dei tavoli tecnici andiamo a vedere quindi quali potrebbero essere le altre idee sul tavolo una pensione contributiva di garanzia per i giovani pensioni ad hoc per le donne quindi pensate solo per l'universo femminile e anche la staffetta generazionale per far sì che ovviamente chi ha già lavorato tanti anni possa andare in pensione per far posto ai più giovani per saperne di più però dovremo aspettare la legge di bilancio 2021 questo è tutto al momento e queste sono le pillole formative e informative di Le Fonti TV alla prossima Grazie a tutti